A Gavi, capitale del famosissimo vino, è possibile visitare l'imponente forte cinquecentesco, eretto dalla Repubblica di Genova e rimaneggiato in epoca sabauda. Questa poderosa fortezza rappresenta uno tra i luoghi più significativi per la storia della provincia di Alessandria e per l'evoluzione dell'architettura militare in Piemonte. Abbarbicata su uno sperone di roccia in un punto strategico sulla vallata, la fortezza di tipo difensivo fu costruita alla fine del Cinquecento su un preesistente castello di origine medievale. L'impianto è a stella, con sei bastioni collegati dalla cortina muraria. Nel 1948 divenne carcere e nell'ultima guerra mondiale fu campo di prigionia tedesco. Attualmente è in consegna al Ministero dei beni culturali che ne cura la manutenzione e la promozione attraverso la sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte. Grazie a tutti.